... Di Badwell oggi parleremo con protagonisti e testimoni della storia italiana Massimo D'Alema, Sandro Gerbi, Piero Sanzonetti, Aldo Tortorella e Chiara Valentini Aveva dato la sua adesione anche Valte Veltroni Un impegno familiare l'ha trattenuto a New York Ma leggeremo più tardi un testo che ha mandato Come vedete c'è un'alta percentuale di ex direttori e dirigenti dell'unità a questo tavolo Prima vorrei dire due parole su questo incontro Partendo proprio dal titolo Badwell è uomo libero Questo titolo è stato scelto dalla moglie Laura Lilli Anche per l'epigrafe che l'accompagna nel cimitero di Capri La parola libertà ne sintetizza lo spirito più profondo Perché è libero dalle sue radici aristocratiche e altoborghesi Con cui ruppe per fare la sua scelta di vita comunista Dalla parte degli ultimi come si dice una volta Libero dai conformismi della sua stessa parte politica Impegnato all'unità per difendere il valore del buon giornalismo Rispetto all'obbedienza alla linea ufficiale Libero dal suo stesso ruolo dentro il giornale Lo chiamavano presidente per la sua indiscusa autorevolezza Ma scelse di non avere potere Il suo nome è legato a quello di Berlinguer Per 12 anni ne fu il puntuale resocontista Ma in realtà il suo ruolo è andato molto oltre Quello del semplice articolista E poi lo ascolteremo da Tortorella Probabilmente è stato anche l'ispiratorio Tra gli ispiratori di alcuni passaggi fondamentali Come lo strappo da mosca Il suo stadalizio con Berlinguer È l'aspetto che è rimasto diciamo più famoso Più celebre di tutta la sua tevità Ma in realtà fu anche uno straordinario inchiestista Autore di servizi fondamentali Sul mezzogiorno e sulla mafia Sulle fabbriche del nord Negli anni immediatamente precedenti L'autunno caldo E sulle complicate trame dei poteri Sia quelli occulti che quelli conclamati Ne ricorderemo oggi vari aspetti Soprattutto tenteremo di restituire Il significato di una vita Che rovescia radicalmente il senso comune Che si è andato sedimentando Negli ultimi vent'anni Intorno alle vicende Dei comunisti italiani Ma prima di cominciare Con il giro degli interventi Vorrei leggervi la testimonianza Del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano Che era legato a Badwell Da una lunga amicizia Gentile Laura Lilli Cari familiari e amici di Ugo Badwell Nel venticinquesimo anniversario Della scomparsa di Ugo Che vi accingete a ricordare Invece invio al vostro incontro L'espressione della mia sincera Ideale partecipazione La vita politica, culturale e giornalistica Di Ugo Badwell È stata un percorso di ricerca Nel quale la tradizionale disciplina Di partito di un tempo Non ha compresso Il senso dell'esplorazione E la capacità di allargare I propri orizzonti Le regole sono state la mia forza Ma anche la mia camicia di forza Scrisse Badwell Nel libro del metto inglese Quell'ancoraggio non gli tolse Originalità né freschezza di riflessioni E di apporti quotidiani All'impegno giornalistico e politico Ricordando affettuosamente Le tante occasioni di collaborazione E discussione con lui La sua apertura e simpatia umana Vi rivolgo un caro saluto personale Giorgio Napolitano E adesso direi di cominciare Questa giro di testimonianze Da Aldo Tortorella Aldo Tortorella come dice Una formula giornalistica Abbastanza abusata Non ha bisogno di presentazioni Ma io ve lo presento lo stesso È stato uno dei massimi dirigenti Del Partito Comunista Italiano Sotto la segreteria di Berlinguer Perseguì tra le altre cose Le politiche per la cultura Ed è stato direttore dell'unità Dal 70 al 75 Quindi è stato Tortorella Direttore ad aver creato Il sodalizio Badwell-Berlinguer Ad averli messi insieme E allora sarà interessante Sentire da lui Perché questa scelta Al di là dell'indiscussa Bravura professionale di Badwell Come nasce questo sodalizio E soprattutto che ruolo Ebbe Badwell Al di là diciamo Del lavoro giornalistico Di cronaca quotidiana Devo schiacciare qualcosa Qui? Già fatto Ah va bene va bene Dunque Allora Leggerò naturalmente Perché altrimenti Non sto nel tempo Che mi è stato Nel tempo e nel tema Che mi è stato assegnato Appunto Il trascorvere del tempo Come si sa Può annebbiare i ricordi E impallidire le fisionomie Anche di chi fu Di chi ti fu vicino Soprattutto se sei andato Troppo avanti negli anni Come capita a me Ma se penso a Ugo Badwell Ora che è passato Un quarto di secolo Vedo nettissimo Il suo viso intelligente E ironico Vedo la sua figura elegante E sento il suo pacato Argomentare Forse si dimentica Chi si vuole dimenticare E rimane profondo Il ricordo Di chi ha suscitato Stima e affetto E Badwell era per me questo La mente acuta E lucida E il cuore Rigorosamente Generoso E buono Buono con vigore Dico Perché ci vuole Coraggio E generosità umana Ma anche Un gran vigore Nel seguire I propri convincimenti Per abbracciare Tra la fine degli anni Cinquanta E inizio del Sessanta Del Novecento La causa Del movimento Operaio E degli sfruttati Come dicevamo Allora Per spiegare Quello che volevano Essere I comunisti Del PC Si era in quel tempo Nel pieno Di quello che fu Definito Il miracolo Economico E dunque Della euforia Per la ricchezza Acquistata da molti Della classe sociale Cui Baduel apparteneva E che egli Abbandonava Sapendo di andare Ad una vita Di pesanti Ristrettezze Contemporaneamente Abbandonando In più La prospettiva Di una carriera Nel potere politico Ben certa Data la precoce E prestigiosa Ascesa Tra i giovani Dirigenti Della DC E per chi veniva Da una tradizione Cattolica Come lui Per quanto Laicamente vissuta Si trattava Anche Di entrare Nel mondo Degli scomunicati Per la generazione Della resistenza L'incontro Con i comunisti Era stato Quasi naturale Perché erano I più e i meglio Organizzati Nella lotta Clandestina E partigiana E c'era Stata E c'era La vittoriosa Difesa di Stalingrado E la bandiera E poi ci sarà La bandiera rossa Sul Reichstag Ma in quegli anni Tutto era diverso Anzi all'opposto C'era stata La tragica Repressione armata Sovietica Della insurrezione Ungherese E la rivelazione Dei crimini Di Stalin Molti degli Intellettuali Che erano stati Con i comunisti Cattolici Se ne erano Andati da tempo E ora Se ne andavano via Parecchi intellettuali Raici Di grande prestigio Era un orgoglioso Camminare Controcorrente Quello del giovane Badwell Che lascia Il ruolo dirigente Conquistato Tra i giorni Dici Diviene Coautore Del dibattito Politico La rivista Di sinistra Che segna L'incontro Suo E del gruppo Dichiarante Magri Con il teorico E capo Dei comunisti Cattolici Franco Rodano Da cui più avanti Si dividerà Radicalmente Dopopoco Si iscrive al PC E date le sue capacità Diviene giornalista D'inchiesta Da prima a vie nuove Poi all'ora di Palermo E infine all'unità Ma non è solo Un giornalista Che si fa notare Per le sue doti Di scrittura E per l'acume Dei suoi commenti E anche un militante Politico Che si schiera Nella lotta interna Al partito comunista Sul fronte più esposto E cioè Con la tendenza Di Ingrao Che chiede Più democrazia interna Vuole più critica Verso i sovietici E nel campo Economico Sociale Propone Un po' Arditamente Per il tempo Di pensare A un nuovo modello Di sviluppo Fu a Milano Dove io dirigevo L'organizzazione comunista Che incontrai Le prime volte Badoel Era stato mandato Lassù Per occuparsi Di lotte operaie Nell'edizione Settenzionale Dell'Unità Di cui ero stato Direttore Anni prima Avevo viva amicizia Allora come poi Con compagne E compagni Sensibilità politiche Vicine Alla sua Sebbene io Mi fossi schierato Con l'ongo Per cause lontane E perciò Lo conobbi E imparai Ad apprezzarlo Mi colpì Lo ricordo bene La sua serietà Politica Unita Ad una viva Curiosità Per la vita Con lui E con quel gruppo Di amici Tornai a frequentare Il quartiere Di Breva Dove avevo iniziato Nel tempo Della guerra La mia precoce Carriera Di sovversivo Mescolandomi Per colpo O per merito Di un mio professore Agli artisti In formazione Che diventeranno In vario modo Celebi Morlotti Cassinari Dova Fo Peverelli Eccetera Eccetera Badwell Allora Dava gli appuntamenti A Giamaica Un bar vicino A Breva Allora povero Ma già famoso Per i suoi clienti E furono Badwell E gli altri A farmi conoscere I cabaret milianese Il mitico derby Dove iniziavano Il loro percorso Con una comicità Dissacrante E spesso geniale Tanti giovani Che diverranno Celebi Dagli annacci A fo Non più aspirante Pittore Da parenti A gabere E molti altri Che il segretario Della federazione Comunista Frequentasse Quei luoghi Di sfregiuricato Anticonformismo Antiborghese Era a quei tempi Alquanto al di fuori Da una certa Fudierie Di una Gerarchia Di partito Timorosa Di uscire Dalle convenzioni Forse confuse Con la rispettabilità Ma di quelle serate Fui e sono grato A Badwell E agli altri Perché si capivano Più cose Da quella ironia Ancora senza remore Che in tante Faticose E noiosissime Riunioni Fu anche per questo Che quando ritrovai Badwell All'unità Dove tornavo Come direttore All'inizio Negli anni Settanta Pensai per lui Ad un incarico Speciale Per intendere Quanto fosse speciale Quel compito A cui pensavo Bisogna aver presente Quel che era Il PC E il sistema Politico Di quel tempo Allora Era sconosciuto Quel fenomeno Dei partiti A proprietà Personale Che abbiamo Vissuto E viviamo In Italia Con Berlusconi Da prima E più recentemente Con Grillo Ma ciò Non vuol dire Che le personalità Non avessero Un ruolo Rilevante E decisivo La funzione Del segretario Non solo Nel PC Naturalmente Era stata Ed era Determinante Per la definizione Dell'indirizzo Politico Ma questa funzione Non si svolgeva Senza contrasti Talori Molto asperi Come era venuto In ogni fase Della storia Dei comunisti italiani E dei loro Gruppi dirigenti Formati sempre Da forti personalità Anche se Il metodo Prevalso Da un certo momento In poi A differenza Di altri partiti Era per i comunisti Quello di presentare Sempre agli iscritti All'elettorato Una immagine Unitaria A parte I casi Di divisione Così acute In cui si dovevano Compitare Sesquipedali Risoluzioni Di carattere politico Naturalmente Toccava dunque Al segretario Proporre una sintesi Tra le diverse posizioni Ed enunciarla Pubblicamente E perciò Il costume Che vigeva allora Era quello Di pubblicare Sul quotidiano Del partito L'integrare Dei discorsi Del segretario E che però Si dimostrava Via via Meno tollerabile Per un giornale Che era Fino al 1975 Perché Nel 1975 Comincia a uscire La Repubblica Il secondo D'Italia Per diffusione E voleva essere Alla pari Della concorrenza Occorreva Pensammo Offrire una versione Giornalistica Dei molteplici Interventi Di Berlinguer Divenuto Segretario Nel 1972 Anche perché Con la crescersi Delle difficoltà Di mediazioni Tra le diverse Opinioni Egli veniva Dimostrando La sua propensione A non farsi Il notario Delle decisioni Della direzione Ma spesso Ad anticiparle E dunque Se Se si voleva Una versione Giornalistica E cioè Interfettativa Dei lunghi testi Di Berlinguer E delle sue Esternazioni Improvvise Occorreva Una penna Esperta E una testa Politica Fine Ma erano Necessari Anche doti Umane Non comuni Perché Nella interpretazione Giornalistica Del pensiero Arturo C'è sempre Un più E un meno Qualcosa Che si omette E qualcosa Che si sottolinea E che suona Inevitabilmente Come una Correzione Se non come Un rifacimento Di cui va Convinto L'autore Alle doti Politiche E giornalistiche Bisognava Perciò Aggiungere Una capacità Che non saprei Definire Diversamente Come la capacità Di una grande Comprensione Umana Per entrare Nella inevitabile Solitudine Di chi A un certo punto Deve decidere Da solo Su materie Che riguardano Una intera Comunità E che Come accadeva A Berlinguer Coltivava Convinzione Fermissime E talora Ferme Fino All'ostinazione A me pare Che solo Baduel Avesse tutte Queste doti Ad un tempo Umane Giornalistiche E politiche Perché Egli All'acume Naturale Alla sottigliezza Argomentativa Maturata In difficili Contese Interne E alla limpidezza Della scrittura Univa Un carattere Che a me Sembrava Duttile E fermo Discreto E risoluto Credo Per una volta Di non avere Sbagliato Cambiavano Dopodimè I direttori Ma non cambiò Il ruolo Di Baduel Divenuto Con il tempo Un consigliere Politico E per certi aspetti Un coautore In molti Importanti passaggi Dell'esperienza Di Berlinguer E' un errore grave Quello di non pochi Dei molti Commentatori Ed esperti Di storia Dei comunisti Italiani Che accomunano Confusamente Come se la strada Fosse stata la medesima Tutti coloro Che avevano Un'origine Parzialmente Comune Nella vicenda Dei comunisti Cattolici Rimasti Poi nel PC Questo errore Evidente In molti casi Come nella Rattura Tra Franco Rodano E Claudio Napoleoni O nella diversa Vicenda Dichiarante E Magri Viene compiuto Anche nella Comunale Ugo Da Franco Rodano L'altro Tatò Pienamente Cattolico Estrettamente Legato A Rodano E non Meno Grande Era la Differenza Nell'orientamento Politico A partire A partire Della diversa Concessione Del compromesso Storico Come si vedrà Quando Berlinguer Dopo l'assassinio Di Moro Constatò Che era fallita La speranza Ingenua Come disse Di cambiare Il corso Politico Le radici E ruppe A prezzo Di un forte Scontro Interno La maggioranza Detta di Solidarietà Nazionale Che sosteneva Il monocolore Di Andreotti E propose Infine Senza interpellare La direzione Del partito La strada Dell'alternativa Tatò Come si vede Dalle sue lettere Pubblicate Postume Lettere Che sono spesso Dei lunghi saggi In cui si legge Chiarissima La prosa E la linea Di Rodano Si dimostra Preoccupatissimo Che possa essere Abbandonata La strada Del compromesso Storico Cui al massimo Andrebbe cambiato Il nome E teme Che l'alternativa Possa sembrare Un'alternanza Badwell Posso dirlo Con certezza Perché fu Quello il tempo Della mia più ampia Vicinanza Politica Operativa E osolire Umana Anche a Berlinguer Era Di opinione Del tutto Diversa E opposta E propendeva Come altri di noi Per una linea Di alternativa Che mirasse Eventualmente A liberare Forze interne Le forze interne Al PSI All'ADC Favorevoli Al risanamento Del sistema Politico Ancora Ancora più distante Fu Badwell Da Tatò Sulla Definitiva Rottura Con il partito Sovietico Operata Da Berlinguer Tatò Mostra Chiaramente In quelle sue lettere Un atteggiamento Di riserve Di critica Della rottura In piena Consonanza Seppur Relata Da prudenza Verbale Con Franco Rodano Che aveva preso A scrivere Durri attacchi Pubblici Alla linea interna E internazionale Di Berlinguer Una consonanza Che si spinse Fino a cercare All'inseputa Di Berlinguer Come Tarò Stesso Rivelò Onestamente Prima di morire Eravamo Nel 1983 Quando avvengono Questi fatti Finanziamenti Sovietici Per quella Pubblicazione Rodaniana Badwell Perfettamente All'opposto Aveva maturato Da gran tempo Una posizione Avversa Al rapporto Con i sovietici E di pieno Accordo Con la linea Assunta Da Berlinguer Linea Che egli stesso Aveva discretamente Solecitato In un rapporto Che si era fatto Di amichevole Fiducia Badwell Che definì Alla fine Se stesso Come liberal Era un innovatore Deciso Come si vedrà Sino alla fine Ma mai In memore Dei motivi Per cui Aveva impegnato La sua esistenza Nella memoria Che io Di lui C'è Come ho confessato Sin dall'inizio L'affetto Per una persona Cara Troppo presto Scomparsa Ma non è solo Per questo Che mi sembra Tanto giusto Ricordarlo Come oggi Facciamo È stato Più che miope Da parte Della sinistra Coprire Coprire con un velo Di dimenticanza I propri Antecedenti Storici E i suoi Protagonisti Ora che vediamo Tutta la povertà Politica Del presente Non è una Operazione Nostalgica Di andare Con la memoria A chi animò Il tempo Passato La vita E il lavoro Meno noto Di molti Furono testimonianza Di una concezione Alta E senza esibizioni Vettoriche Di autentica E disinteressata Dedizione Ad una politica Considerata Come lotta Per la libertà E per La giustizia Tra i molti Alcuni Rimangono Come esempi E tra di essi C'è Ugo Badwell Scanzonato E severo Gentile Con i deboli Duro Contro I prepotenti Un compagno Carissimo Una persona Assolutamente rara Grazie